Vieni, sono io! Dobbiamo fare un saluto grande a Prodotto di Gisla che sono venuti stasera a Domanzi. Prato, saremo anche la loro donna dica, quindi li salutiamo. Grazie. A novembre? Grazie. Un grande saluto a Ricco, Marista, Renato, grazie di cuore, Renato. Gli amici di Caselle. Oh! Vieni, vieni! Vieni! Parfittura, Renato, 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 Renato. Vai parti! Stop! La regina della pepia ronata! Il lupo! Resiano! Lupo! L'anarizzo! Sai cosa costano? Trenta euro dai cinesi! Giù non sono le bambine! Trenta euro dai cinesi! Giù! Avai! Giù! Ciao grande! Ciao grande! Belluno! Un saluto a Franci! Un saluto a Franci! Grazie! Grazie! Abbassi! Grazie! Il saluto a Franci! Genesa! Cos'è da? Ho la vista! Ah, ma che sì non d'armi, eh? Eh? Eh sì! E che sì, dai! Come è stato? Ecco qui! Come è stato lì? E' aperto! Stai aperto! Lo dico a te! E' aperto! E' aperto, si vede tutto! Non sei da niente, devo farlo! Come è stato lì? Adesso! Bravo! Bravo! Non ci sono i cantini, se non è un'altra cosa! E' aperto! 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 E' aperto!